Ehi, a dopo. Martellone? Sì. Cifuni. Come stai? Eh, bene. Eh? Eh. Senti, ma mi hanno detto che ti stai ispirando un po' a me, è vero? No, no, cioè... Dai, dai, dai. Sto a cercare di trovare altre cose, ma con un rispetto straordinario nei confronti di noi. Mi hanno detto che vai benissimo. Ah, grazie. La cosa più importante, tu non devi rinunciare alla tua identità. Tu devi tenere insieme Martellone e Gifuni. L'alto, il basso, il colto, il popolare, tragico e comico, la lingua italiana e i dialetti. Che? Non so Gifuni, so Favino. 15 ore di trucco.